Dal 2015 la formazione amatoriale Melania OMM sarà equipaggiata con Biciclette Carrera. L'importante accordo è stato siglato a Calcinato in provincia di Brescia presso la sede della Carrera Podium tra Fabrizio Petritoli, presidente della società ciclistica fermana, e Davide Boifava, oltre a Luciano Bracchi della Carrera Podium. Davide Boifava, ex professionista, oggi imprenditore nel mondo delle due ruote con il marchio Carrera Podium. Tante biciclette, ma partiamo dall'inizio, un passato da professionista, poi tanti successi da direttore sportivo. Sì, io praticamente ho fatto dieci anni da professionista, ho avuto la fortuna di passare e correre direttanti nel livello della Molteni, di conseguenza Albani, che era l'ora della sportiva, mi fece passare e fortunatamente il primo anno vinsi subito parecchie corse, di conseguenza è stata una bellissima esperienza che mi ha servito per il dopo. Stefan Roche, Claudio Chiappucci, Marco Pantani, Michele Bartoli sono alcuni dei campioni che hanno vestito le divise e pedalato su bici Carrera. Sì, di conseguenza quando la carriera è interrata nel ciclismo ho avuto la fortuna di avere i titolari che mi devono tanta fiducia nella gestione sportiva della squadra e di conseguenza a me piaceva molto lavorare sui giovani, di conseguenza dal Battaglini, Visentini, Ross, Pantani, Bontempi, Leali, Ghirotto, Bartoli, Bettini, Ivan Basso, che la fece passare io, di conseguenza mi ritengo una persona molto fortunata avendo avuto questa fortuna dai grandi imprenditori come il signore Tacchella. Marco Pantani Marco venne qua da ragazzo col papà e col direttore sportivo e aveva vent'anni e mi chiese subito di passare al professionista nella quale lui mi disse mi disse io voglio passare il primo dito con te perché per me la squadra a carriera sarebbe il mio sogno però non potrei realizzarlo subito in quanto allora il regolamento della federazione erano tre anni da direttante obbligatori. il terzo anno lo fece con la Giacobazzi, vinse il Giro d'Italia i direttanti e io dissi ma quel momento qua l'ho perso chissà quante squadre lo cercano chissà invece un giorno mi chiamo e mi disse sei pronto a farmi firmare il contratto per passare e di fatti troviamo subito l'intesa e lui perché lui disse io sono molto di parola il mio sogno è di venire con te e lui ha detto ti ringrazio di tale fiducia e di fatti lo fece esordire il 6 agosto al Gran Premio di Camaiore. Nel 1989 nasce la Carrera Podium la prosecuzione di esperienze maturate tra i professionisti da Davide Boifava e da Luciano Bracchi. Sì nasce la Podium fare le biciclette in quanto in quel periodo della squadra come ho detto un po' anzi vincevamo tantissime corse dal Giro al Tour a Vuelta a Sanremo tante classiche di conseguenza con un marchio Carrera era giusto che i nostri atleti corressero con le nostre biciclette e così nacque la Podium che esiste tuttora. Professionalità, know-how, ricerca per anticipare tendenze del mercato e realizzare i sogni dei ciclisti attraverso un prodotto di qualità e soprattutto made in Italy. Sì, quando nasce la Podium fare le biciclette di conseguenza i meccanici che facevano parte della squadra con una grande esperienza che hanno avuto diventarono i tenici della fabbrica. Di conseguenza è nata una squadra proprio dal marciapiede con una grande esperienza e di conseguenza la nostra cultura nel fabbricare biciclette è proprio quella di creare sempre qualcosa di nuovo per essere al passo dei tempi con esigenze del pubblico che va tuttora in bicicletta. E fortunatamente in questi ultimi anni in tutto il mondo ci sono le biciclette scoppiate in modo esponenziale e benvenga per noi biciclettari. I programmi futuri dell'azienda? I programmi futuri è quello col marchio Carrera che abbiamo, è quello di allargare sempre gli orizzonti nel mondo perché è buon per noi, la passione della bicicletta si sta mondializzando e di fatti poco tempo fa abbiamo preso nuovi mercati tipo l'India, cosa impensabile pochi anni fa, Filippine, Indonesia perché di conseguenza è andata ad aggiungere i 35 paesi che noi esportiamo, adesso siamo sulla quarantina e speriamo sempre di largarsi sempre di più. Oggi si è concretizzato un accordo per la fornitura di telai alla società ciclistica Melania che svolge attività amatoriali. Sì, oggi diciamo che con questo accordo noi ringraziamo i dirigenti della Melania perché io conosco la Melania, l'azienda, conosco i dirigenti, per noi è un grande motivo di soddisfazione perché è un marchio molto importante e penso che sia un connubio bello tra Melania e Carrera di questo binomio e speriamo di essere all'altezza di soddisfare le esigenze di tutti gli amatori che andranno a correre nel gran fondo in tutta Italia del team Melania. Una sinergia che affonda le radici nella storia del ciclismo, la società ciclistica Melania OMM da 31 anni opera nella promozione del ciclismo amatoriale nelle marche e anche grazie all'intraprendenza di Fabrizio Petritoli. I ciclisti della società fermana hanno conquistato tre titoli ridati amatori, 15 maglie tricolore e il trofeo La Sfida alla Giro di Tagli Amatori. Alcune edizioni delle più belle manifestazioni gran fondistiche internazionali come Nove Colli, Gran Fondo di Londra e Gran Fondo di New York. La Podium Carrera costruisce biciclette specialissime nello stabilimento di Calcinato. Campioni del calibro di Marco Pantani, Stefan Roche, Claudio Chiappucci, Roberto Visentini e Michele Bartoli hanno gareggiato e vinto in sella Bicicarrera. Grazie a tutti!